Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi, ed è considerato lo zio più famoso d'Italia, con il soprannome Zio Gerry. Gerry Scotti si è limitato a scrivere pochissime righe. Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te. Nei commenti è intervenuto anche Edmondo Conti, che lavora per In The Mall, scrivendo, non doveva succedere. Ti vedremo sempre in ogni angolo di Mediaset. A giudicare dalla foto di Carmelita, appare certo che Silvia fosse una collaboratrice di Mediaset. Una delle lavoratrici che dietro le quinte fanno belli i conduttori, prima che questi entrino in studio per le loro trasmissioni in diretta o per le registrazioni. Sempre analizzando le scelte lessicali di Barbara D'Urso, si presume che fosse malata da tempo. Il suo nome è Silvia Pizzi. Il suo Instagram risulta seguito da 12.000 persone. Nella bio specifica di lavorare per Mediaset come Air Artist Celebrity, ovvero parrucchiera dei VIP. Non è chiara la sua età, ma a giudicare dal suo volto era piuttosto giovane. Sicuramente inferiore ai 50 anni. Ci uniamo al lutto dei suoi familiari e di Mediaset per la prematura scomparsa della parrucchiera. Grazie. 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 Grazie.